bentornati su my football jersey scusate per la voce ma devo dire che non sto benissimo però the show must go on come dice la famosa canzone e quindi eccomi qua questa è una maglia bellissima secondo me del san paolo in edizione fan l'edizione fan vi ricordo che è quello un po più comoda meno tecnica pensata per i tifosi no la maglia è molto bella mi piace tanto questa alternanza dei colori tipici del club rosso, nero e bianco ed è perfetta in tutti i dettagli il costo lo vedete qui sopra vi ricordo come al solito che include anche le spese di spedizione se volete saperne di più trovate qua sotto in descrizione tutti i riferimenti andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari quindi il costo che avete visto prima diventa ancora più basso ora vi lascio la parte finale prima però iscrivetevi al canale è un piccolissimo gesto che vi chiediamo ma ci aiuta a mostrarvi maglie come questa tutti i giorni per oggi è tutto alla prossima grazie a tutti grazie a tutti